4 ragazzi, si chiamano Otaku, si esibiranno per noi in un balletto, conoscete tutti, dei Village People, è YMCA Signore e signori preparatevi perché ne vedrete delle belle, Otaku, eccoli qui! Ancora! 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 Allora Mirko, ho un presentimento che non li rivedremo in finale Questo, consentitemi, è il giusto riconoscimento per quello che hanno fatto